Salve salve a tutti e ben ritrovati a Diarte. Io sono ancora in compagnia di Marilena Sandrini. Ciao Marilena. Ieri, come mio solito, ti sei presentata quale artista. Io solitamente comincio proprio la prima puntata dando la possibilità all'artista di conoscersi in quanto tale, con le proprie tecniche, con il proprio stile artistico. Oggi però vorrei che tu ci parlassi di te stessa, di Marilena come persona. Cioè chi è Marilena Sandrini? Tu sei nata ad Imola in un ambiente di campagna, no? Sì, sono nata a Imola, in questa grande casa di campagna, abbastanza isolata, quindi sono cresciuta in maniera molto semplice, con tanti tabù, tante chiusure sin da piccola. Ero molto chiusa, ero molto timida. Non potevo far mai niente perché è anche una famiglia molto rigida. E quindi io mi rifugiavo e nella mia camera iniziavo a dipingere. Oppure uscivo fuori e osservavo. Siccome stavo molto tempo da sola, cioè mi piaceva molto osservare, guardarmi intorno a me. E questa cosa mi ha aiutato poi molto in seguito nel mio percorso artistico, anche perché forse sono diventata un'artista, una pittriccia, anche per questo. Perché ho avuto il modo e il tempo di stare a pensare, di stare a guardare. Di stare da sola? Di stare da sola. Ma anche con il rapporto con i tuoi coetanei com'era? Cioè non avevi, avevi pochi amici? Sì, avevo pochi amici, ero molto chiusa, quindi stavo molto tempo da sola. Ero un po' particolare, ho sempre stata molto, ho sempre visto molto oltre. E quindi questa cosa mi ha portato poi un po' a isolarmi. Di lì ho iniziato a esprimermi in questo modo. Scrivevo e dipingevo, scrivevo e dipingevo. Quindi hai cominciato a dipingere per esigenza, di colmare questa solitudine un po' forse. Sì, 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 decisamente. E hai deciso di studiare o non hai mai studiato? No, ho studiato, ho fatto ragioneria, una scuola che non c'entrava niente con la scuola che volevo fare, che era appunto quello dell'accademia, eventualmente, e poi la scuola d'arte. Però non ti sei formata nel campo artistico? No. Ma lo volevi? Lo volevo, sì. E i tuoi genitori non hanno permesso? No, no, perché dicevano che non aveva senso, insomma. Hai mai avuto rancore per questa cosa che ti hanno proibito, si può dire? Ma un po' sì, però poi li ho compresi come tutti gli adolescenti che vengono su un po' arrabbiati, insomma. Ho avuto i miei momenti di grande crisi e poi grande soddisfazione, perché quando ho iniziato a capire quello che volevo veramente, poi mi sono espressa. Quindi mentre frequentavi la ragioneria, comunque non trascuravi la tua passione, oppure l'hai messa da parte? L'ho messa da parte, l'ho messa da parte e praticamente eri uscita fuori con l'incontro del mio scompagno, che si chiama Pietro Marino, grande grafico designer. Tuo maestro? Il mio maestro, che ti ha instradato, ti ha... Sì, sì, sì. Mi ha fatto tirare fuori tutto quello che avevo dentro i cassetti, come si suol dire. E di lì ho rincominciato a nascere. Io sono rinata e sono uscite fuori queste cose che sto facendo, che vedete. Tu suonavi anche il pianoforte, no? Sì, io ho fatto sei anni di scuola, insieme a mio fratello avevamo questa orchestra. E come mai? Paradossalmente ti davano l'opportunità di studiare musica, ma tu poi hai deciso di continuare con l'arte figurativa. Ma c'era questo amore per la musica in casa, quindi mi avevano concesso di imparare a suonare, ma non di disegnare. Perché non era nella cultura, poi la cultura contadina, semplice, non è contadino in termini di dispregiativo. Contadino nel senso di semplicità, tutto qua, insomma. E non avevano la cultura per potermi appoggiare, ecco. Quindi io ero un po' fuori dagli schemi, non so come definirmi. E quando? C'è stato un momento in cui hai capito che più della musica avresti voluto fare questo? Da sempre. Da quando ero piccolina l'avevo capito, solo che non l'ho mai potuto fare, veramente. Quando veramente ho cominciato a capire questo è stato appunto grazie al mio maestro che mi ha veramente aiutato tanto. Perché tu, fino all'incontro con il tuo compagno, facevi, creavi le tue opere, ma te le tenevi per te, no? Sì, esatto. Non uscivano fuori dalle mura di casa tua. Poi hai conosciuto lui e ti ha proposto di essere. Lui poi aveva fatto già l'Accademia di Belle Arte, mi lasciava a casa pennelli, tele, libri, di tutto e di più. Avevo la casa immersa nell'arte con lui e quindi questa cosa mi ha spronato e una mattina mi sono svegliata, ero molto in crisi e ho detto, qui io provo, riparto. Ho preso in mano il pennello e veramente allora mi aveva lasciato molti libri di figurativo e quindi mi ricordo quella mattina ho preso su un carbonzino veramente e di lì è partito tutto. Ho rifatto questa donna che alla sera lui ha visto e ha detto ma come, che meraviglia, mi ha detto qui, cioè, devi andare, devi fare, cioè. Ti ha consigliato di esporre le tue opere? Mi ha spronato, mi ha spronato sempre, ha visto che potevo e mi ha spronato e lo devo ringraziare e poi, insomma. E poi da lì com'è stato condividere con il tuo compagno anche la tua passione, il tuo mestiere, il tuo hobby? Ma, grande rispetto e soprattutto… Ognuno per il lavoro altrui perché può capitare che ci sia anche un po' di… Competizione, i furti delle idee, le cose che si chiamano i furti delle idee. Esatto, no, no, non è mai successo perché lui è un bravissimo fumettista però non è un pittore e quindi diciamo che ci compensavamo molto in questo, poi non c'è mai stata competizione, mai, mai, mai. Tu mi hai detto che sei una persona, a proposito di te, stiamo parlando proprio della tua persona. Sì. Tu sei una persona che entra tantissimo in crisi, molte volte, ma non soltanto in relazione al tuo lavoro, all'arte. No, no, no. Cos'è che ti fa entrare in crisi? Cos'è che nella vita ti ostacola? Ma la quotidianità, il fatto di dover sempre stare a delle regole, dei cani, dei stereotipi, come un po' dicevo anche nella puntata precedente. Cioè il fatto che… L'oppressione forse. Sì, sì. Io ho bisogno di vivere una vita un po' senza schemi, di libertà, cioè così un po' non dico l'avventura, però un po' la giornata. Ma c'è un percorso che tu senti di aver fatto come artista, ma soprattutto come persona? Cioè chi sei tu oggi rispetto alla bambina che inseguiva il suo sogno e non poteva farlo? Ma sono una donna che pensa di aver fatto già tanto per sé, di che ha ancora tanto da fare, che ha ancora tanto bisogno di crescere, di crescere in tutti i sensi. Come tutti, devo ringraziare la mia bambina che è sempre in me, che mi sta comunque vicina tutti i giorni. Tu ti senti molto bambina? Molto, molto. Lo dicono anche quelli intorno a me, che ha questo spirito molto infantile, che però a volte mi salva. Mi salva dalle rigidità, dalle regole anche, troppo, a volte magari vado in una grande crisi e poi lei mi salva, perché poi magari scendo giù nel mio laboratorio, inizio a tirar fuori i pennelli, infatti il mio compagno arriva a casa, dice, mamma mia, perché colori di qua, colori di là, proprio io tiro fuori la mia libertà, la mia bambina, ci divertiamo insieme, non so come dire. E quanto c'è della tua bambina, come la chiami tu, nelle tue opere? Molto, c'è molto di lei. Questa bambina piena di vita, che se è un po' spenta, non ha avuto una gran possibilità di crescere. C'è molta energia giovanile, però dove sta invece il lato tuo, il tuo senso di oppressione, perché c'è anche questo, no? C'è da un lato l'energia giovanile spensierata e libera che tu richiami e rammenti e insperi, però c'è anche questa paura della routine, del quotidiano, delle barriere. Sì, molto, molto, ma dipende molto dal mio vissuto, un po' problematico, familiari, di chiusure, di rigidità, che poi mi hanno portato a queste chiusure. Tu sei cresciuta in un ambiente molto chiuso, mentalmente. Molto chiuso, sì. E ne hai sofferto, perché? Molto, molto, perché io ero l'opposto, cioè io sin da piccina avrei voluto andare a vivere a New York, cioè avrei voluto uscire da, e invece sono dovuta stare… Questo ti ha creato contrasti con i tuoi genitori, con la tua famiglia? Irrisolti o risolti? Ma sì, abbastanza, abbastanza, anche se adesso ho degli ottimi rapporti con loro, io voglio un gran bene e l'importante è appunto voler bene anche a me, che adesso io prendo in mano Marilena e camminiamo insieme. Adesso ti vuoi bene perché fai quello che vuoi fare, no? Sì, sto cominciando a volermi bene, sì, per questo. Come hai detto tu. Tu hai detto anche che tu hai sempre dipinto per te, no? Hai sempre creato per te. Sì, sì, decisamente. Ma che differenza c'è tra creare per te e creare non per te, per qualcun altro, per chi poi? Ma io creo per me, però creo anche per gli altri, perché alla fine è un dono che mi è stato dato, quello di creare. Se lo posso dedicare agli altri e che gli altri magari sono contenti quando guardano le mie cose. Però non è la prima cosa, cioè tu non crei con lo scopo di trasmettere qualcosa all'altro, ma a te stesso, no? Sì, per prima cosa, sì, sempre. Infatti i lavori su commissioni che faccio sono sempre molto tirati perché è faticoso per me. Benvengano, però sì, io prima di tutto lo faccio per me. Credo che ogni artista lo dovrebbe fare per se stesso prima di tutto, perché se no non è un vero artista, cioè. Io lo faccio per me, poi vedo, se posso regalare un sorriso, un'emozione, per me è... È proprio una tua esigenza. È una mia esigenza, sì. E questo mi sembra di aver capito che ti ha aiutato a superare le tue crisi, no? Sì, certo. Bene, per concludere, noi qui dietro alle nostre spalle abbiamo un altro dei tuoi splendidi quadri. Questo però mi pare che sia ritoccato con il colore, no? Sì, questo è un'elaborazione digitale su Frattali, è il programma di cui parlavamo prima. Praticamente si intravede questa rosa, è un quadro molto recente. E la rosa è fotografata? No, la rosa è proprio fatta. È una forma che viene fuori da... Da questo programma, sì. Ho voluto realizzare questa mia rosa dedicata a chi voglio bene. In questo quadro in particolare è dedicato al mio compagno, Andrea, e quindi mi emoziono un po' anche a dirlo. Però, insomma, questa rosa con questi colori molto... Passionali. Molto passionali, sì. Un po' gli innamorati, quelli che si vogliono bene. All'amore, diciamo. È un inno un po' all'amore. Sono molti i quadri che tu dedichi? Molti, sì. È una cosa che solitamente fai, quella di dedicare i tuoi quadri o no? Allora, pochi ma buoni, come si suol dire. Ho dedicato sempre pochi quadri, ma persone molto importanti, sì. Bene, Marilena, io ancora oggi ti ringrazio per essere stata con noi. Il tempo purtroppo è finito, però ci sono ancora moltissime giornate a nostra disposizione. Quindi per oggi ti saluto e ci vediamo domani. Grazie a tutti per averci seguito. Anche a voi vi do l'appuntamento a domani. Mi raccomando, non perdetevi la terza puntata in compagnia con Marilena Sandrini. Un bacio. Ciao.